Il servizio rifiuti si conferma un rompicapo amministrativo e politico che ancora oggi manca di una conclusione certa. Dopo l'assemblea della SRR4 chiesta dal sindaco Lucio Greco, l'opzione della gara autonoma dal servizio in house rimane in sospeso. È stato riferito che servono altre verifiche. Un tavolo tecnico, l'avvocato greco ad oggi pare non abbia ricevuto alcun riscontro né dalla SRR4 né dalla regione. Ad inizio settimana anche in municipio è pervenuta la relazione redatta dal dirigente. Grazie a Cosentino un'analisi condotta come RUP del progetto della gara che contiene anche passaggi piuttosto critici sulle ultime scelte amministrative. Il sindaco in attesa di riscontri certi sull'eventualità di una gara fino ad ora non ha mai preso in considerazione la firma del contratto attuativo che legherebbe l'ente alle impianti SRR, la società in house che ha ottenuto la gestione del servizio rifiuti in tutti i comuni dell'ambito. Lo stesso greco intanto sta lavorando per rispondere proprio alla relazione che è stata inoltrata sul servizio rifiuti. Tra gli altri aspetti richiamati il dirigente Cosentino proprio nella relazione ha precisato che gli è stata inoltrata una nota firmata dal segretario generale che preclude lo svolgimento di attività lavorativa presso la SRR4 di fatto impedendole di proseguire nel doppio ruolo di dirigente del municipio e RUP del progetto per il servizio rifiuti. Probabilmente potrebbe esserci anche questa comunicazione alla base del possibile addio del dirigente che pare andare verso la definitiva conclusione del suo rapporto lavorativo con il municipio. Non ci sono ancora conferme ufficiali ma pare più che probabile l'uscita dell'ingegnere Cosentino che in questi mesi ha portato avanti importanti procedimenti dalle pratiche del settore urbanistica passando per il programma di finanziamento qualità dell'abitare per leader di bonifica delle ex discariche industriali. peraltro lo stesso dirigente Cosentino in più occasioni ha guidato il settore ambiente della comune.